Ci ho dato un taglio ancora una volta ragazzi, ormai chi di voi è qui sul canale da tanto tempo è abituato ai miei cambi di capelli Allora, nuova, 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 nuova conciatura, sono tornato di nuovo giovane, dieci anni in meno Vabbè, poi ricresceranno ragazzi perché già mi mancano, io toro i capelli lunghi ormai, questo lo sapete Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video Quali sono le top 5 criptovalute da tenere in portafoglio contro il super bitcoin e soprattutto per una nuova super bull run in alt season Ho 105 cripto che terrò sott'occhio per quanto riguarda un'analisi sia di natura ciclica sia di natura tecnica E da mettere io stesso poi nel mio portafoglio Perché? Perché sono convinto che dopo questa grande impennata di bitcoin Che ragazzi non si ferma più, dovrebbe esserci la chiusura del ciclo mensile tra pochissimo Ma niente da fare, non accenna a diminuire di prezzo Ancora c'è qualche giorno, 5-6 giorni di tempo Quindi può fare il classico dampone e chiudere il ciclo e ripartire Ma quali sono le cripto che secondo me vanno messe sotto riflettore Che potrebbero dare grandi soddisfazioni a chi come me detiene solo bitcoin ed eth in questo momento E vuole riposizionarsi per un alt season eventuale nel prossimo futuro Ragazzi allora prima di andare a vedere quali sono queste cripto Quali sono i segnali di analisi e tutto il resto Vi chiedo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto E lasciatemi i super pollicioni perché mi date una mano ovviamente con l'algoritmo di youtube Ma prima di andare avanti vi devo dire un'altra cosa 19 e 20 di novembre sarò alla Blockchain Week Roma 2021 ragazzi Allora parteciperò anche io a questo evento e mi troverete lì a novembre il 19 ed il 20 di novembre ragazzi Sarà un evento assolutamente come sempre stra figo perché è dedicato totalmente all'ambito delle cripto Ci saranno tantissimi speaker tra le altre cose ragazzi non so ancora se sarò speaker anche io all'evento Anzi fatemi sapere una cosa se vi interessa se volete che faccia uno speech anche a questo evento Scrivetemelo nei commenti magari se raccogliamo tanti tanti commenti vostri di questo tipo Può essere pure che andiamo a realizzare qualcosa di dedicato proprio nell'evento Ho anche un coupon sconto per voi proprio per la registrazione ragazzi che vi lascio nella descrizione di questo video Ovviamente il coupon è tradingon quindi basta scrivere tradingon e avrete il diritto ad avere il 10% di sconto sul prezzo che vedrete A me troverete ovviamente ragazzi soltanto i giorni 19 e 20 di novembre Sono molto contento di partecipare a questi eventi vi lascio il link per acquistare i biglietti Chi di voi ci sarà avremo anche un tavolo dedicato con gli influencer del settore youtube cripto italia E sono anche molto contento di trovare anche vari colleghi vari youtuber vari amici In alcuni casi con i quali condividiamo veramente tante informazioni Blockchain week Roma vi lascio il link in descrizione Il coupon di 10 con il 10% di sconto Allora andiamo a vedere quelle che invece sono le top 5 cripto da tenere monitorati e per gestire questa che potrebbe essere l'ultima e la ultima diciamo periodica E la super ad season che verrà Allora ragazzi luna ad ethereum dot solana Ve le dico subito così vi ho svelato l'arcano E poi andiamo però a fare analisi adesso su tutti questi progetti In ordine di spasso ecco diciamo così E andiamo a capire quali sono quelli più interessanti e soprattutto quali sono i livelli Perché hanno in comune un pattern ciclico che andremo a vedere Che possiamo utilizzare da sfruttare appunto per posizionarci in maniera corretta su questi titoli Senza anticipare il mercato Sapete bene che non mi piace andare contro trend E soprattutto non mi piace andare a entrare su un mercato con la famosa logica Lungo periodo poi lungo periodo ragazzi vi farei leggere dei libri A tal riguardo di psicologia dove vi spiegano che questa cosa è una gran PIIIP Ok perché non esiste È solo un tranello della nostra struttura psicologica Però abbiamo bisogno ovviamente di queste cose Per andare a gestire un po' tutta la nostra vita Tutto quello che facciamo Va bene allora scherzi a parte a parte queste cose Andiamo anche a fare un'ultima Soltanto un'ultima cosa importante Io guardo i grafici delle altcoin in questioni contro bitcoin Non contro USD Perché? Ve l'ho già spiegato ma lo ripetiamo anche in questo video Perché se ho un cavallo che corre veloce come quello di bitcoin Per quale motivo devo cambiare il re con un'altra altcoin che è più volatile, più pericolosa E se non mi dà più rendimento Allora lo faccio solo nel momento in cui quella specifica altcoin o criptovaluta Può crescere magari in futuro O per diciamo la mio modello di analisi Potrebbe crescere rispetto al re Rispetto a bitcoin Se non lo fa rispetto a bitcoin Io mi tengo bitcoin ragazzi Perché abbiamo il cavallo Abbiamo il re Stiamo con il re E poi sguiccio ogni tanto Su quelle che possono essere più proficue in determinati momenti Così si fa speculazione e investing in maniera corretta Ovviamente a parte bitcoin è il mio portafoglio stabile Ormai da anni c'è anche ETH Ormai questo l'avete capito In questo momento però non ho nessuna altcoin Allora vi faccio vedere quindi il grafico Partendo dalla super top e super gettonata Luna ragazzi Io non ho Luna in portafoglio Per una serie di motivi Intanto nel momento in cui ha fatto il super pump Ragazzi ero in vacanza Per dire ero in vacanza Io ero già su altre coin Insomma è in vacanza Non mi metto a fare queste analisi Nel momento in cui invece poi È diventato appetibile da studio Questo tipo di progetto Contro bitcoin ha iniziato a fare delle figure Estremamente delicate e molto rischiose E quindi entrare in questo momento È un grave errore Quanto meno nel breve periodo Rispetto a bitcoin Quindi ho preferito aspettare un pochettino Però Luna entra Ovviamente di diritto Visto il grande pump che ha avuto Ma soprattutto vista la qualità del progetto Che magari porteremo anche un video A tal riguardo ragazzi Proprio sul canale Dove andremo magari a descrivere Quelle che sono le tecniche Più proficue da utilizzare Per esempio magari su Luna Insomma portiamo anche un po' di contenuto così Allora ragazzi Quali sono i livelli? Allora intanto il primo livello Che si vede in maniera estremamente rilevante È il pullback di questa zona Che era stata quella che aveva dato il via A questa fase di ripensamento Tra marzo del 2021 Con un minimo a maggio E poi il breakout avvenuto ad agosto Quindi questa è stata un'area di break Molto rilevante Con 1, 2, 3, 4 massimi Addirittura questo ovviamente È stato l'ultimo tocchettino Prima del break E quindi potrebbe in effetti andare a confluire Questo movimento ribassista Che vedete contro Bitcoin Esattamente proprio in questa zona qui Adesso qui fare un buy the dip Io non lo farei neanche qui Buy the dip Aspetterei sempre comunque Una inversione di trend C'è una question ciclica però Interessante da andare a vedere Cioè la regola del 7 Potrei dire così Allora moltissime cripto in questione Fanno contro Bitcoin Dei cicli a 70 più o meno giorni Lo so sembra strano Perché poi questi sono mercati giovani Quindi vanno analizzati I pattern di ripetitività statistica Chiaramente cambiano Si modificano in maniera estremamente veloce Su mercati come questi Che sono giovanissimi però Anche per un esercizio di forma Andiamo comunque a ragionarci E andiamo a vedere Quali sono le possibilità Che ci possono dare anche questo tipo di analisi Dove siamo in questo momento ragazzi Proprio alla scadenza Dell'altro ciclo da 7 Che probabilmente potrebbe confluire In una scadenza In una chiusura ciclica Con il famoso mensile di Bitcoin Per poi ripartire tutti insieme Allora proprio per questo E la struttura ciclica Ci porta una cadenza Più o meno che troveremo anche Nelle altre altcoin Di 70 giorni circa E il fatto che si sia avvicinato Diciamo anche a un livello basso Di prezzo Perché sta perdendo Contro Bitcoin Ha perso tantissimo Nell'ultimo periodo Ma ovviamente ragazzi Ha guadagnato non so quanto Quindi ha fatto meno 40 Contro Bitcoin Però insomma Veniamo da trend abnormi Allora questa zona Sia temporale Che a livello di prezzo Potrebbe interessare Quindi In questa zona Appunto Tra fine mese di ottobre E soprattutto Se scende ancora un pochettino In questa area di prezzo Magari anche che non arriva qui Ragazzi Perché spesso Ovviamente non va a fare Un pullback preciso Ma Tra questa e questa area Potrebbe essere Un Best buy Come si dice In termini Del Dei vari smartphone Ragazzi Potrebbe veramente Essere interessante Andarla a inserire In un portafoglio Per un eventuale Alto season Quindi questa è l'una Andiamo su Ada ragazzi Ada Bruttissimo Trend ribassista Per quanto riguarda Ada contro Bitcoin Nell'ultima fase Perde veramente Tanto E' vero che aveva Guadagnato tanto Ha perso il 40% Ma non aveva fatto I numeri di luna Ma soprattutto Qui c'è un problema Con la famosa Ripetitività Dei cicli A 70 Delle cripto Che Un po' siamo lunghetti Ragazzi Perché vedete Siamo a 77 Quindi la pericolosità Che addirittura Questo ciclo Sia Stato già Finito Sia già Terminato In pratica E sia già A ribasso Quindi su Ada Sono fortemente Titubbante Sull'ingresso Questa è l'area Che gestisce Tutta la struttura Di Ada E aspetterò Ovviamente Che La L'Altcoin Arrivi In questa zona C'è anche La questione Legata Alla Fondamentale Del progetto Che ben sapete E' veramente Lento nel partire Quindi Aspetterò Che intanto Arrivi in questa zona Poi Attenderò Un'eventuale Successiva Inversione Di trend Contro Bitcoin E tipo Una cosa Del genere Ragazzi Quindi Un trend Invertito Con almeno Un break Di questa Media mobile E dopodiché Potrò Decidere Se farla Entrare Di diritto Anche Nel Mio Portafoglio Quindi La coin È interessante Perché ha avuto Un ottimo Trend Annuale Contro Bitcoin Semestrale Trimestrale Eccetera Però Vista La fase Di bastista Di questo Momento Scambiare I miei Bitcoin Con Ada Attenderò Questa fase La ritengo Un po' Più rischiosetta Rispetto alle altre Andiamo a vedere ETH Ne ho parlato Ieri In uno Lo short Di Bitcoin Sto facendo Dei mini short Perché sono Carini Da inserire Vediamo se funzionano meglio Con delle break news Allora La ciclicità Di Ethereum Contro Bitcoin Come sapete È uno dei miei Grafici preferiti Quando siamo entrati Qui in questa fase Vi ho detto A maggio Staremo in barra Di congestione Tanto tempo Così È stato Non si è molto Guardate che barra Di congestione Assolutamente Interessante Anche fare Una strategia In questa barra Di congestione Che bene Sembra Perché Come strategia Di trading Un strumento Finanziario Che si Che oscilla Così È interessante Perché può essere Trattato In maniera Molto proficua Quindi Una super strategia Anche qui Si ci può creare Allora Quali sono I cicli Su ETH E BTC Allora C'è un ciclo In scadenza Che probabilmente Scadrà Nei prossimi giorni Però Questi 100 giorni Che ha fatto Dal precedente Non sono sufficienti A decretare Chiuso Questo ciclo Quindi bisogna Attendere ancora Ragazzi E secondo me Ci vorrà Un po' Di tempo Secondo me Ci vuole Tra La ciclicità Tra fine novembre Tra fine ottobre E fine novembre Oppure Addirittura Dal 20 novembre Quindi qui C'è proprio Un'area Da andare A definire Che è molto Più ampia In termini Temporali Rispetto a quello Che abbiamo visto Prima ragazzi Quindi io direi Da questa zona In poi Questa potrebbe Essere una fase Temporale Dove ETH Va a concluire Con un minimo Rispetto a bitcoin E poi inizia Magari Un nuovo pump E soprattutto Il livello 0.055 Aria fondamentale O giù di lì Intorno di lì Ragazzi Vedete Qui ha fatto 0.057 Come sapete Non è possibile Andare A definire i centesimi Anzi I satoshi Di questi prezzi L'importante È che non vada Al di sotto Di questo livello Di minimo Cioè Di 0.055 Altrimenti Cambia radicalmente Una cosetta A livello ciclico E sarebbe Un po' Pericoloso Quindi Poi andremo A valutare Quindi Aspetterò su ETH A fine mese di ottobre Per decidere Se posizionarmi A meno che Proprio non ci sia Un'inversione Come quella Che ho spiegato Nello short Fatto ieri Su YouTube Andatevi a vedere Il video Pesa 45 secondi Diciamo Lo potete Assolutamente Guardare E se supererà Questo livello Di prezzo Che ha segnato Ieri Quindi 0.0675 Potrebbe indicare Un ingresso Mentre poi Quello ufficiale Sarà Qui Sopra Questo livello Qui Però Un po' troppo alto Per un'operazione In barra di congestione Quindi meglio Attendere Questa zona temporale E poi cercare Un buy The dip Andiamo alla terza coin Che è DOT La prima volta Forse che parlo Di DOT Sul canale Con un'analisi Dedicata Perché Mi è piaciuto molto L'atteggiamento Che ha avuto Nell'ultimo periodo Proprio contro Il re Contro Bitcoin Che sta andando E performando Veramente alla grande DOT Va alla grande Resiste Diciamo così Allora vedete Ancora una volta La ripetitività Del famoso ciclo A 70 Sembrerebbe Che DOT L'abbia proprio Chiuso Perché 76 È questa Zona qui Quindi Questo pump Di DOT È interessante Ha fatto il break Della sua media Ora sta facendo Un pullback Perché no Questa potrebbe essere Definita proprio Un primo segnale Di buy Proprio in questa giornata Qui Perché ha Un livello Di ritracciamento Su una fase Di pullback Con uno stop Contro Bitcoin Che può essere Inserito Qui Allora facciamo così Lo coloriamo E vediamo Allora qui Facciamo uno stop loss E qui potremmo Addirittura andare A far confluire Il nostro primo buy Diretto proprio Su questa questione qui Quindi in quest'area Che vi ho disegnato È possibile In effetti Con l'idea A livello Di analisi Ragazzi Che DOT Posta andare A performare meglio Di Bitcoin Magari Andando a Intanto Breccare questo livello Che è fondamentale Ma poi ce ne sono Altri Cioè questo qui Che è il massimo Relativo attuale E poi L'altro massimo Relativo Che è questa parte qui Fino a quello finale Che è questa Barra di congestione Se va a fare Primo back Secondo back E terzo break Entrerebbe di diritto In un trend Rialzista Contro Bitcoin Potrebbe Essere Una coin Che ci fa I numeri Diciamo Ora vi ho fatto Un zigzag Veramente Estremamente preciso Quindi non sarà Sicuramente così Però È interessante Perché c'è Un'opportunità Con Tutto sommato Uno stop loss Che non è Molto Elevato Quindi abbiamo Ciclicità a favore Abbiamo Un livello di prezzo Che è già dato Un segnale Abbiamo un pullback Abbiamo anche Le altre coin In attesa Ci potrebbe stare Non è una coin Che ha fatto Grandi numeri Negli ultimi periodi Quindi magari Hanno qualcosa Che tirano fuori Dal sacco A livello di analisi Fondamentale Potrebbero Darci grandi Soddisfazioni Comunque Allora Questa è così Poi abbiamo Solana L'unica Che come vedete In questa giornata Di super bitcoin Che in questo momento Sta tentando Di breccare Il suo livello Di 60.000 dollari Quindi i suoi massimi Fregandosene totalmente Del fatto Che Eravamo in un eccesso Statistico Di volatilità Ma questi Sono i mercati Ragazzi Ancora siamo Nei numeri Accettabili Però veramente Ottobre Praticamente È stato un mese Di volatilità Eccessiva Ma ne parliamo Lunedì Di questa cosa Iscrivetevi ragazzi Se volete Dettagli Poi Sulla ciclica Di bitcoin Allora Ancora una volta Solana Star Del mio portafoglio Per il 2021 Vedete Ancora una volta Anche tutti i segnali Che avevo indicato Ragazzi Questi sono tutti i segnali Di ingresso Che avevamo fatto Nei precedenti video Quando ho fatto video All'inizio dell'anno Solana Superstar Ragazzi Quindi inutile Insomma Che andiamo a discutere Allora 71421 Tre cicli da 70 Con questo maxiciclo E poi qui Abbiamo una struttura Che si sta andando A delineare Anche su Solana Vedete Con una chiusura ciclica Ancora non confermata In realtà Vicino sempre a questa Pattern Che sembra essere Un pattern ripetitivo Non ve lo fido tanto Perché Come vi ho detto E ve lo ripeto C'è una questione Legata ai cicli Che sono Costruiti su token Troppo giovani Che non abbiamo Una serie di statistica Lunga Però Io ci provo Ragazzi Anche perché Non ne possiamo Aspettare anni A far fare storico Alle criptovalute Poi partiamo La rivoluzione A cui stiamo Assistendo Quindi assolutamente Meglio giocare In anticipo E avere un rischio Maggiore di Errore Insomma Ok ragazzi Non è importante Sbagliare Non è importante Fare profitti Quindi A noi ci interessa Quello Allora Qual è il segnale Allora Primo livello Di break Di Solana E questo Quindi Sopra qui Potrebbe Rinvertire il trend Che ha Contro bitcoin Probabilmente Sempre con La famosa trend La indiscendente Che verrebbe Breccata Insomma Anche qui Siamo in logaritmo Quindi andrebbe Curvata Ma niente Niente di Rilevante Poi Da un punto di vista Invece Di fase Di bassista È lontanissima Da supporti Rilevanti Perché i supporti Di Solana Contro bitcoin Sono molto Più in basso Quindi possiamo Addirittura Anche arrivare Qui sotto E tranquillamente Lo può fare Perché Se allunga Questo ciclo Di qualche altro Giorno Va giù Però Solana Vedo Molta forza Ragazzi Proprio Molta forza Mi piace molto Questa coin Continua A essere anche Una gran piattaforma Come idea generale Anche se Ha delle cose Che non funzionano Devono sistemare Però come idea generale Ok Abbiamo fatto Un exit strategy Perfetto Solana Qualche settimana fa Siamo usciti Sui massimi storici Vi ho pubblicato Anche la storia Su Instagram Ragazzi Sul mio canale Instagram È stato molto Interessante Anche fare Quella cosa lì Ma In questo momento Io cerco Un rientro Su questa coin Che farò Al momento O In versione Quindi a un break Nei prossimi due giorni Di questa Media mobile Che vedete qui Che è la media Dei cicli In questo caso Questa è una 26 Perché è fatto Sul settimanale Ma Anche se la scendo Poco poco E la riporto Alla mia famosa Media a 21 Non è che cambi Granché Perché Siamo sempre di vicino Userò comunque La media a 21 Per questa cosa qui Non quella 26 Ragazzi Ora qui Rimetto 26 Perché Su questo grafico Faccio anche Altri tipi Di analisi Bene Allora vi ho dato Le mie 5 coin Che potrebbero essere Interessanti Da guardare Per una eventuale Al season Soprattutto Da fine ottobre Il primo novembre A Ad libitum Direi Due mesi Tre Quali sono invece Le vostre preferite E soprattutto A livello grafico Confrontatele con bitcoin Perché Vi garantisco Che nelle High cap Soltanto Poche coin In questo momento Sono in trend Positivo Contro bitcoin Le altre Sono in trend Laterale Ribassista E' anche vero Che hanno performato Tanto Ma non è il momento Giusto Quindi a livello Di timing Per questo Non siamo Con un portafoglio Di tantissime coin Perché Ragazzi A livello Di timing Sono Fuori Dal trend Rialzo Va bene Per oggi è tutto Noi ci rivediamo Nel prossimo Video Buon weekend Ciao ragazzi